Avevo assunto questo compito di parlare del saggio di Bart su Loyola e vi ringrazio di questo invito perché è stata un'occasione per rileggere Bart e devo dire Loyola stesso di cui ho qui due testi che in realtà non posso dire di avere molto letto in passato. Quindi diciamo che la bibliografia che potrebbe essere pertinente parlando di questo tema dell'autobiografia spirituale di Ignazio di Loyola comprende appunto il racconto del pellegrino che è la vera e propria autobiografia c'è scritto anche nel sottotitolo a cura di Calasso è uscita negli Adelphi gli esercizi spirituali e invece il diario spirituale bisogna dire che appunto Ignazio da Loyola è nato nel 1491 è morto nel 556 e sostanzialmente nella prima parte della sua vita è un uomo di corte è un cavaliere un combattente il suo esercizio il suo orizzonte è proprio quello dell'esercizio delle armi fino a quando subisce un gravissimo incidente che praticamente gli distrugge una gamba che viene curata ma poi addirittura gli viene rirotta perché si è saldata male e quindi affronta una lunghissima e dolorosa convalescenza durante la quale legge la leggenda aurea alcuni dicono perché non aveva a disposizione nessun testo sui cavalieri quindi un po' per caso è una vita di Cristo e da qui inizia il suo percorso di conversione immagino che in questo seminario sappiate benissimo che cos'è la leggenda aurea che è questa raccolta costituita da Jacopo da Varagine tra il 1260 e il 1298 che raccoglie le vite di 150 santi e la leggenda della vera croce noi la conosciamo soprattutto in quanto fonte fondamentale dal punto di vista iconografico allora l'autobiografia questa autobiografia Loyola l'ha detta diverse riprese dopo solo dopo molte ripetute insistenze da parte dei suoi compagni più vicini e si concentra sulla seconda parte della sua vita quindi quando intraprende questo percorso che cambierà di conversione cambierà il cavaliere mondano nello stratega sovrannaturale Ignazio fondatore della Compagnia di Gesù allora un punto da sottolineare è che diciamo la critica sostiene che il racconto della vita di Ignazio dell'Aiola differisce dalle tradizionali ageografie cioè quelle che troviamo nella leggenda aurea perché ma perché forse perché le altre di solito sono molto concentrate sul sul martirio mentre effettivamente questa non lo è è in tutto e per tutto una cat molto riconoscibile con tutti gli accidenti di percorso del caso affascinante anche per quello che compare tra le righe del racconto compresa appunto questa sua totale assoluta determinazione nel perseguire le cose che decide di fare e va anche detto che la parte che forse per noi sarebbe più interessante cioè la fondazione dell'ordine è destinato a divenire così potente come come sappiamo e invece in questa in questa autobiografia non c'è ecco va detto che per quanto si dica che non diciamo questa autobiografia non ha la forma tradizionale della geografia dei santi i passaggi sui quali si sofferma in realtà sono poi sono poi quelli che andranno a costituire la base degli esercizi spirituali che come come forse sapete è una sorta di manuale che riassume in quattro settimane appunto un percorso di trasformazione di meditazione di contemplazione che appunto deve è la base per questa questi esercizi che adesso vedremo sono devono seguire le persone che vogliono intraprendere questa via ecco volevo fare un piccolo detour e mostrarvi un attimo l'altare della chiesa del Gesù di Roma in particolare la macchina barocca di Fratel Pozzo cosiddetto che è stata costruita tra il 1655 e il 1699 perché ve la faccio vedere ve la faccio vedere perché tutto meno che barocco sembrerebbe Ignazio dalla lettura della sua autobiografia e anche degli esercizi spirituali mentre invece qui abbiamo una lettura assolutamente appunto tale e quello che ci interessa è vedere come tutti i vari non so se riuscite a leggere ma tutti i vari passaggi della sua vita dall'apparizione di San Pietro il Santo Sant'Ignazio che prega la Madonna Sant'Ignazio che nella Madonna trova ispirazione per i suoi iscritti Sant'Ignazio che intercede per la guarigione degli infermi e così via così via sono 18 17 punti che vedete trovano appunto una specifica rappresentazione quindi la la sua vita e questi vari passaggi vengono come dire vengono presi come appunto riferimento per la costruzione di questa complessa rappresentazione chiamiamola così il cui cardine è per l'appunto la macchina barocca cioè il fatto che a un certo punto qui vedete che c'è questo dipinto questo dipinto a un certo punto può essere fatto scomparire e al suo posto compare questa statua sempre di Ignazio e il con questo suo volto che compare in tutte le altre diciamo caselle in cui è stata segmentata la sua vita tanto che per l'appunto ognuno dei volti che compare in queste rappresentazioni viene assunto l'espressione di questi volti viene assunto come emblematico delle diverse fasi della appunto della sua vita e della trasformazione di queste fasi poi in esercizi destinati agli altri fedeli questo per dire che cosa servono diciamo in modo grossolano le vite dei santi in che modo appunto possono dare luogo a altre forme testuali che come in questo caso poi a loro volta devono generare devono generare autobiografie spirituali che sono quelle dei fedeli ecco detto questo il testo di Barth che compare invece in Sad Furie Loyola che è del 1971 in origine come gli altri è un articolo per Telquel ma in effetti sono pensati insieme fin dall'inizio dice Barth sono pensati per confluire insieme infatti la prima versione quella pubblicata su Telquel nel 1969 si intitola Comment parler a Dieu e in realtà tutto è focalizzato soprattutto sul testo degli esercizi spirituali al quale Barth aveva scritto una prefazione titolata L'arbre e le bois che uscirà nella edizione francese degli esercizi appunto nel 72 quindi un anno dopo e il testo invece che compare in Sad Furie e Loyola è sostanzialmente una analisi una approfondita analisi proprio degli esercizi spirituali e quindi come dire di un prodotto virgolette secondario rispetto alla autobiografia vera e propria Barth afferma che appunto non c'è in questo apparentemente eterogeneo accoltamenti di autore nessuna intenzione provocatoria da Sad a Furie scrive a cadere il sadismo dall'Oyola a Sad l'interlocuzione divina ma tutti dice fanno dipendere il piacere la felicità la comunicazione da un ordine inflessibile o per essere ancora più offensivi da una combinatoria quello che in effetti interessa molto Barth è la produzione da parte di questi tre autori da parte di tutti questi tre autori di una nella produzione di una lingua che chiama una lingua artificiale una lingua moderna e nei testi di tutti questi autori trova le stesse operazioni per all'origine di questa produzione cioè l'isolarsi dalle produzioni per esempio dalle produzioni anteriori degli stessi generi quindi produrre una discontinuità rispetto alla tradizione chiamiamola così articolare sempre facendo l'esempio di Loyola spezzetta il corpo nei cinque sensi ritaglia il corpo cristico in diversi misteri sostituisce la composizione della creazione la preghiera deve passare attraverso il linguaggio il terzo punto è ordinare secondo un ordine superiore in base sempre alla presenza di un ordinatore e in base alla sequenza di un rito considerato necessario e poi ancora la quarta diciamo operazione è quella di teatralizzare cioè rendere il linguaggio in qualche modo illimitato non sono scrittori ma non scrittori che perseguono uno stile ma quanto la famosa écriture su cui Barth lavora in questo periodo e quest'idea della teatralizzazione ci dice alla fine del loro lavoro scusate trovo la citazione 24 sto leggendo dalla prefazione essi insistono in questa operazione di pressione di spinta via via che lo stile si assorbe in scrittura il sistema si disfa in sistematica il romanzo in romanzesco l'orazione in fantasmatica sad non è più un erotico furie non è più un utopista e lo iola non è più un santo in ognuno di loro non resta che uno scenografo colui che si disperde attraverso i riflettori che installa e scagliona all'infinito dunque in questo momento Barth sta anche elaborando le sue riflessioni sul testo contrapposto all'opera sul il piacere e il godimento ricordiamo che il testo sarà pubblicato due anni dopo e quindi diciamo questi autori rientrano in questa sua ricerca specifica nella vediamo se riesco a togliere la mia faccia no meglio di no vedete ancora la sì il saggio come dicevo il saggio di Barth su su ignanzo di Loyola in realtà si articola in 12 diversi passaggi un saggio piuttosto lungo brevemente degli enuncio la scrittura dice appunto che benché Loyola sia all'origine di una valorizzazione diciamo della scrittura in realtà appunto come già detto non c'è una focalizzazione su quello che consideriamo lo stile ma un'idea di scrittura diversa quindi che si potrebbe riassumere con la battuta scrivo bene scrivo male penso bene non si può essere insieme santo e scrittore perché l'oggetto in realtà della scrittura è l'invenzione di una lingua il testo multiplo la mantica l'immaginazione l'articolazione l'albero le topiche i montaggi il fantasma l'ortodossia dell'immagine la contabilità la bilancia e la marca queste sono i diversi paragrafi in cui si articola questo testo di Barth su Ignazio di Loyola non possiamo certamente ripercorrli ripercorrerli tutti ma per darvi un'idea appunto su del modo in cui Barth procede e legge questo testo adesso fermiamoci un momento su sento un eco soffermiamoci un momento su questa idea del testo multiplo che è come vediamo una sorta di lettura attraverso una una serie di passaggi di oggi chiameremmo di enunciazione che costituiscono appunto che si rifanno alle quattro letture canoniche della Bibbia il primo è il testo letterale in cui diciamo i cui soggetti dell'enunciazione sono anzi diciamo gli attori dell'enunciazione sono Ignazio e il direttore spirituale perché appunto su questo Barth insiste molto ed è come abbiamo detto prima è uno degli elementi di omogeneità con i testi di Sade e di Fourier non c'è un Ignazio non si rivolge direttamente al fedele ma al direttore spirituale quindi c'è un intermediario che è appunto il direttore nel secondo passaggio abbiamo il direttore e l'esercitante che sono i due protagonisti invece che costituiscono l'argomento del primo testo e per questo Barth definisce la lettura tipo semantica il terzo invece è il testo agito vero e proprio cioè l'esercitante in questo caso il protagonista è l'esercitante che attraverso i suoi esercizi si rivolge alla divinità e l'ultimo passaggio sarebbe quello della risposta della divinità all'esercitante allora dice Barth quello che come dire domina questa questa questo percorso è dice una sorta di duplice incertezza perché il devoto è seguendo questi esercizi non sa dove va vanno dove si vanno a parare non c'è una esplicitazione del fine e quindi diciamo c'è una situazione di cecità rispetto alla fine alla quale può arrivare il testo e il testo in particolare agito e infine la seconda incertezza è costituita dal fatto che non si sa non si può sapere l'esercitante non può sapere se avrà una risposta dalla divinità dal Dio a cui si riferisce e quindi diciamo questa molteplicità del testo questa organizzazione interna del testo si focalizza poi su questa diciamo fondamentale assenza non sappiamo appunto se ci sarà una risposta dice Barth questa organizzazione si presenta proprio come il lavoro di una sorta di ingegnere della comunicazione quindi un lavoro estremamente complesso un altro il terzo il terzo punto su cui il terzo paragrafo su cui si si focalizza l'analisi di Barth la mantica si 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 interessa al lavoro metodico della meditazione e in particolare si riferisce al tema della respirazione questa il tema della respirazione che troviamo in realtà in molte altre molte altre tecniche di di meditazione ma che nel caso specifico dovrebbero appunto preparare costituire la base di questa di questa relazione relazione specifica tra l'esercitante e la divinità volevo un attimo ecco insiste insiste molto Barth su questa forma dice strettamente binaria che hanno in comune la prassi che deve seguire l'esercitante e la lingua interrogativa cioè in pratica si tratta di costruire un sistema vero e proprio un sistema combinatorio articolato in domande e risposte una sorta di codice per arrivare a decifrare la volontà di Dio nel senso che questa tecnica serve per avere delle risposte diciamo per arrivare a fare delle scelte avere se non delle risposte da Dio stesso arrivare a scegliere determinare se rispetto a qualsiasi azione farla o no scegliere una certa dimensione o no quindi questa questa mantica non è altro che appunto una tecnica per arrivare a decifrare dice la volontà di Dio ma in realtà senza necessariamente avere una precisa risposta da Dio il tema dell'immaginazione invece riguarda ancora una volta il seguire una serie di protocolli per arrivare a installare nell'esercitante una sorta di vuoto questo tema del vuoto dell'assenza è molto importante in questa nella lettura di Bata degli esercizi spirituali ma immaginiamo che effettivamente si ritrovi nel nel testo nel testo di Ignazio perché idealmente vuoto dice Barth è lo spazio di ogni semiofania quindi per arrivare a cogliere a sentire la risposta a questa risposta divina che può esserci o no non lo sappiamo però è necessario arrivare a questo punto di di vuoto c'è una interessante distinzione tra quello che è l'immaginario e viceversa l'immaginazione dice Barth l'immaginario di Ignazio è molto povero viceversa l'immaginazione è molto forte nel senso che vengono proposte delle vere e proprie liste molto 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 precise di quelle che possono essere queste attività immaginative un altro diciamo punto significativo oltre a quello dell'articolazione come vedete appunto questo albero che Barth riporta circa alla metà della della sua lettura degli esercizi spirituali ci fa vedere la prima settimana gli esercizi spirituali durano quattro settimane e quello che è importante sottolineare è che c'è una sostanziale sostanziale tentativo di saturare la temporalità di queste settimane cioè questa è un'impressione che abbiamo anche leggendo questi esercizi spirituali non c'è un momento della giornata in cui non si sia occupati da questi diversi esercizi che sono molto bene articolati dobbiamo penso di utilizzare questo albero per esempio nei confronti degli studenti per proporre loro un apprendimento assolutamente esaustivo delle nostre materie allora vedete esercizio 1 esercizio 2 esercizio 3 esercizio 4 esercizio 5 ogni esercizio poi si si suddivide in orazione preludi punti i preludi a loro volta determinano un luogo un oggetto considerano cose visibili cose invisibili i punti sono invece riferibili ai peccati il primo peccato il secondo peccato il terzo peccato e ogni peccato deve essere analizzato in base a memoria intelligenza e volontà questo continua anche qui ecco per esempio interessante anche il tema del colloquio e poi vedete la specificazione dei punti nel secondo esercizio rivedere sopposare rimpicciolirmi compararmi ammirarmi e ecco perché parlava appunto di frammentazione del corpo nei vari sensi qui invece nel quinto esercizio i punti sono di distinguere in base alla vista in base all'udito in base al fatto in base al gusto e in base al tatto ecco ecco questo questa articolazione in questo albero appunto che ancora una volta dovrebbe produrre una cifra capace di provocare la risposta della divinità questo ordine diciamo è poi alla chiave anche di altre forme tipiche di ordine legate appunto al gesuitismo per esempio le cosiddette riduzioni gesuitiche paraguai di cui sappiamo anche attraverso il cinema in cui in qualche misura ritroviamo questa questo ordinamento gerarchico e molto preciso nulla appunto è lasciato al caso ed è chiaro che questo è un elemento che affascina profondamente Bart ecco quindi infine le parti finali del saggio riguardano le topiche e qui abbiamo delle liste offerte da appunto degli esercizi spirituali sulla base dei quali esercitarsi c'è anche la possibilità di adottare associazioni libere i montaggi che sono dati dalla ripetizione il racconto fantasma ortodossia dell'immagine contabilità bilancia e marca della contabilità vi segnalo che appunto i doni che Ignazio riceve e di cui appunto parla poi nei suoi diari sono per esempio il dono delle lacrime che è fondamentale la loquela le devozioni e le visioni il dono delle lacrime è così importante che lo troveremo indicato da Barth come uno dei possibili biografemi di Ignazio su questo ci torneremo ma delle lacrime si arriva appunto a fare una vera e propria contabilità a un certo punto Ignazio nel suo diario non fa altro che scrivere quante volte ha pianto durante la messa durante la meditazione eccetera una vera e propria contabilità quello invece un'altra un altro tratto che Barth trova di grande interesse è questo tema dell'indifferenza non voler niente per sé essere disponibile come un cadavere non inclinare a nulla se non a inclinare a nulla quindi una virtualità estrema virtualità dei possibili che si contrappone fra l'altro secondo Barth a altri tipi di mistica e di compresa in particolare si riferisce alla mistica fiamminga di Rusbrock di cui saprete sicuramente più di me e dunque è molto interessante questa riflessione sulla tecnica del contra agere e in realtà questo dialogo con la divinità si risolve in una sorta di rispetto del silenzio di Dio cioè tutta questa tecnica di interrogazione non necessariamente si aspetta una effettiva risposta ma basta a se stessa diventa in qualche modo dice Barth assertiva e il segno divino è un grado zero cioè si può considerare una sorta di vuoto allora torniamo un attimo dato che anche questo seminario si ripresisce l'autobiografia spirituale c'è una particolarità in questo libro Sad Fourier Loyola di Barth cioè che alla fine noi abbiamo la vita di abbiamo una breve schizzo della vita di Fourier e un breve schizzo della vita di Sad ma in qualche modo spiegabilmente dato che Barth era così accurato nella messa a punto dei suoi libri non abbiamo nulla non abbiamo una vita di Loyola perché questo è quello che Barth esplicita dice di non avere trovato non sappiamo niente dice della vita di Loyola non trova materia prima a parte appunto la claudicazione e gli occhi umidi questo è il momento di cito dice quel che mi viene da Loyola non sono i pelleclinaggi le visioni le macerazioni e le costituzioni del santo ma solo i suoi begli occhi sempre un po' intrisi di lacrime questo però in questo punto del suo testo siamo sempre nella nella prefazione a questo volume e Barth introduce il tema della biografema questi appunto quello che non trova nella vita di Loyola sono dei biografemi cioè dei significanti ma in questa nella prefazione mette a punto qualcosa che poi svilupperà nella nella sua Barth farlo in mem in Barth di Roland Barthes e focalizza l'idea del piacere del testo come amichevole ritorno dell'autore e appunto parla di questa differenza che c'è tra la biografia e invece il biografema dice il luogo di alcuni tenui dettagli fonti però di vivide luci romanzesche un canto discontinuo di amabilità in cui non di meno leggiamo la morte con più certezza che nell'epopea di un destino non è una persona civile morale è un corpo e dunque qui Barth sta mettendo appunto la sua idea di biografeme biografema e nel caso di parla poi si diffonde adesso non mi posso diffondere perché il tempo sta il mio tempo sta per finire ma appunto parla del fatto che gli piacerebbe che un biografo amichevole e disinvolto si parlasse di lui restituisse il suo la sua immagine la sua vita attraverso alcuni particolari alcuni gusti alcune inflessioni la cui a distinzione e mobilità potrebbero viaggiare fuori da ogni destino e andare a raggiungere simili ad Atomi e Picurei qualche corpo futuro promesso alla stessa dispersione una vita bucata insomma e dunque in realtà sappiamo attraverso un testo in particolare di Carlo Ossola che Barth aveva letto accuratamente la vita di Loyola e ne era stato particolarmente colpito tanto è vero che nell'archivio delle carte di Barth si trova proprio un abbozzo di questi appunti relativi alla lettura degli esercizi e del diario di Ignazio e tanto è vero che questa è una ipotesi di Ossola ma che mi sembra molto interessante in realtà questa lettura questo lavoro su Ignazio diventi che tra l'altro Barth chiama sempre Loyola proprio per depurarlo diciamo così dalla da un'identità specifica e invece ha come dire unirlo al nome di un luogo e quindi unirlo al nome di un di qualcosa che trascende l'individuo dice appunto che questa lettura di di Loyola da parte di Barth è fondamentale per la sua personale autobiografia spirituale cioè autobiografia spirituale di Barth e si ritroveranno si ritroverà infatti tra i frammenti come spete di questa vita nova che Barth bagheggia dopo la morte della madre e rispetto alla quale abbiamo solo degli appunti ma anche nell'ultimo seminario sul come vivere insieme come vivere ensemble nel 1976 77 in cui appunto Barth rifletteva sulla vita in comunità dunque sorprendentemente questa chiamiamola vita vita non raccontata non descritta è stata estremamente estremamente importante per la stessa autobiografia spirituale bartesiana che probabilmente non si è potuta esprimere appieno a causa della morte ma appunto di cui abbiamo tutta una serie di una serie di elementi una serie di tracce nella nelle sue opere nei suoi ultimi lavori ecco io vi devo confessare che non avevo mai focalizzato quest'idea di un Barth mistico ho anche visto che ripetendo i miei appunti che Michele Cometa ha focalizzato la sua idea su un misticismo di Barth che però non ho potuto in questa occasione approfondire mi sembra molto diverso si riferisce piuttosto ai frammenti di un discorso amoroso che sarebbe appunto legato a una linea di riflessione sui mistici devoti dell'amore e così via e quindi vorrei finire questa mia lettura con un'interrogazione su questo misticismo bartesiano certamente Gianfranco che ne sa più di me mi darà una potrà darci una prima una prima risposta ma quello che mi sembra interessante sorprendente è questa assenza della vita di Loyola nel libro che raccoglie questa importante lettura degli esercizi spirituali e d'altra parte questa sua presenza in un percorso di Barth che appunto di cui non sappiamo effettivamente quale sarebbe potuto essere l'esito io vi ringrazio molto mi scuso se sono stata un po' approssimativa ma come ho spiegato all'inizio in parte non è stata colpa mia grazie e invece adesso vi presento il secondo relatore di oggi che è Gianfranco Marrone professore ordinario di semiotica dell'università di Palermo che dunque ha insegnato in parecchie università in Italia che nel mondo fra cui università di Bologna di Bogotà allo Yulm Limoges McNess Pollenzo San Paolo in Brasile e anche e altri insomma questo è solo per fare qualche esempio è direttore del centro internazionale di scienze semiotiche di Urbino e dirige anche la rivista EC ed è presidente del circolo semiologico siciliano ha la sua intensa attività accademica affianca anche un'attività come giornalista pubblicista collaborando a una serie di testate per esempio Tutto Libri della Stampa La Repubblica Doppio Zero e altre ha anche tantissimi diversi interessi di ricerca tra cui qualche esempio narratività e studi sul personaggio estetica gusto e semiotica semiotica del corpo tra le sue pubblicazioni ricordo il suo libro più recente che si intitola La fatica di essere pigiri pubblicato nel 2020 per Raffaello Cortina editore e semiotics of animals in culture pubblicato per Springer nel 2018 oggi ci presenta un intervento che si intitola da croce a cartesio vita come opera io Gianfranco ti ringrazio moltissimo per essere qui e ti cedo subito la parola allora ricomincio con i ringraziamenti perché mi fa molto piacere essere qui approfitto anche per scusarmi del fatto che ho dovuto negarmi altre volte per ragioni puramente organizzative e ringrazio anche perché questa sollecitazione di Jenny mi ha consentito di riprendere un testo molto vecchio che avevo scritto anzi che avevo pubblicato o scoperto nel 1999 e che in qualche modo chiudeva una serie di ricerche che avevo cominciato alcune delle quali insieme a Paolo Fabri sul testo filosofico e oggi quindi vorrei riprendere alcuni punti di quel saggio nella speranza che la speranza guardandomi allo specchio questo non è stesso cioè che abbia la possibilità di riprendere questo tipo di questioni il testo a qualcuno potrà sembrare un po' erudito diciamo così perché è pieno di nomi propri e di titoli me ne scuso ma essendo un testo in qualche modo introduttivo propedeutico ad una problematica di ricerca non può che essere così e in secondo luogo la seconda la seconda scusa che vi chiedo è che non è particolarmente semiotico anche per la stessa ragione c'è un'analisi narrativa classica anche questa abbozzata ma devo dire anche per difendermi dalle prime critiche che verranno sicuramente nel dibattito è evidente che è un testo che richiede ulteriori approfondimenti lo leggo per ho fatto dei grossi tagli rispetto alla versione pubblicata ma è stata pubblicata in un posto praticamente introvabile quindi ha un carattere quasi inedito allora l'analisi del linguaggio della filosofia ha compiuto in questi ultimi anni un notevole passo in avanti ermeneutici analitici logici decostruzionisti estetologi linguisti pragmatisti studiosi del discorso semiologi sociologi della conoscenza critici letterari filologi storici del pensiero eccetera hanno sviscerato in molteplici direzioni l'idea che al di là del suo contenuto dottrinario la tradizione e la pratica filosofica si reggono su un apparato al tempo stesso formale e sociale che è in termini molto generali dell'ordine del linguistico è sorto così un vero e proprio filone di studi con una serie di differenze interne talvolta molto accentuate che ha in qualche modo minato il principio millenario ora esplicito ora implicito della filosofia come tra virgolette zona franca del sapere pensiero puro esoterico che si aggancia ad un qualche supporto materiale soltanto per ragione di opportunità comunicativa di divulgazione esoterica che ha avuto modo che ne so di leggere per esempio di leggere di incontrare quella mostruosità filosofica della scienza della logica di Hegel sa che nell'introduzione Hegel si scusa di scrivere si scusa di scrivere un testo lui dice io vorrei soltanto pensare però ogni tanto mi tocca anche scrivere per dare dimostrazione di quello che ho fatto quindi per lui ho fatto l'esempio più celebre di tutti ma ce ne potremmo fare tanti altri trattare questo argomento e la seconda cosa ne approfitto dell'intervallo che ho fatto rileggendo questo testo ho ripensato ad alcuni dibattiti che ci sono stati anche tra molti di noi sulla questione dei nostri testi che appartenendo in qualche modo a un settore che istituzionalmente viene considerato filosofico è evidente che anche nella scrittura e nella lettura e nell'interpretazione dei nostri testi forse l'idea che si tratta di testi per chi si occupa di semiotica non è del tutto irrilevante ci tengo a questa cosa perché se ne è discusso tanto sia all'interno del discorso semiotico e del carattere inevitabilmente problematico della semiotica oggi a partire dalle sue diverse forme di testualizzazione non è soltanto un problema comunicativo che è pure importante e cioè ci capiscono o non ci capiscono che è una banalità perché è chiaro che qualsiasi sapere ha un suo metalinguaggio ma più direttamente invece è un problema proprio di analisi e di interpretazione dei testi nostri e altrui anche per esempio quando parliamo molto della questione importantissima del dialogo con altre scienze umane e sociali o anche della lettura dei testi delle cosiddette scienze dure non possiamo non dimenticare che questi contenuti di sapere che discutiamo stanno all'interno di forme testuali trattare questo argomento cioè la filosofia come testo significa occuparsi innanzitutto della relazione tra la testualità filosofica e la suddivisione di questo stesso discorso in generi questa è la questione del genere e l'unica che tratterò oggi di fatti dal punto di vista della teoria della significazione tale questione acquista è una configurazione molto precisa trattare la filosofia come genere letterario vuol dire applicare a un campo del sapere protetto quale è stato fino a poco tempo fa la filosofia il principio secondo cui ogni testo oltre a trasmettere un certo numero di informazioni compie un determinato tipo di discorso in altri termini secondo tale teoria i testi non vanno intesi soltanto per il messaggio che veicolano cosa che per noi è abbastanza evidente ma anche soprattutto per la scena enunciativa che insieme attraverso quel messaggio costruiscono al loro interno ogni testo filosofico affide i suoi contenuti dottrinari espliciti a una cornice enunciativa spesso implicita che è esso stesso a costruire una cornice all'interno della quale oltre a venire articolati un certo numero di temi tipici che ne so l'essere il bello la giustizia eccetera agiscono un soggetto manipolatore che si fa carico della verità di quanto viene detto è un soggetto sanzionatore che assume in tutto e in parte il valore di quella verità come ogni testo anche il testo filosofico stipula dunque con il suo lettore un patto implicito che ne garantisce l'efficacia discorsiva e che al tempo stesso lo distingue da altri possibili testi il genere letterario tra virgolette della filosofia da questo punto di vista non è altro che lo specifico tipo di discorso effettuato dei testi filosofici la cornice enunciativa entro cui essi decidono di collocare l'insieme dei testi e delle configurazioni che pongono come loro specifico contenuto semantico detto ciò così come il genere filosofico tende a proporsi già dal suo apparire storico come un campo di discorso ulteriore rispetto ad altri generi nel medesimo assetto culturale la poesia il mito penso ovviamente alla filosofia greca soprattutto allo stesso modo esso cioè il discorso filosofico tende ad articolare al suo interno una molteplicità di sottogeneri sottogeneri che a loro volta vanno intesi come altrettante forme di contratti comunicativi altrettanti spazi discorsivi dentro cui di spiegare temi e dottrine principalmente filosofici la filosofia come ha notato Arthur Danto è sempre stata una macchina produttrice di forme testuali forse persino più potente e più prolifica della stessa letteratura cito da un testo di Danto dell'85 la storia della filosofia occidentale è consistita in una storia di dialoghi memorie di conferenze frammenti poemi disamine saggi aforismi meditazioni discorsi inni critiche epistole summe enciclopedie testamenti commentari investigazioni trattati forlesungen aufhauben prolegomena parerga pensieri sermoni appendici confessioni sentenze non ho finito indagini diari profili bozzetti libri su luoghi comuni ed inoltre per essere autorreferenziali allocuzioni ed infine in quelle forme innumerevoli che ora non posseggono un'identità universale ma che costituiscono a se stesse dei generi letterari specifici e distintivi gli hobswege le grammatologie i postcritti non scientifici le genealogie le storie naturali le fenomenologie e qualsiasi altra cosa possa essere il mondo come volontà e rappresentazione oppure il corpus postumo di Husserl oppure ancora gli ultimi scritti di Derrida per non parlare delle forme tipiche dell'espressione letteraria come il romanzo la pièce teatrale e simili a cui i filosofi si sono rivolti non appena ne hanno avuto la possibilità o la capacità fine della citazione così che che ne dicano molto spesso gli stessi filosofi la decisione circa il modello discorsivo da assumere non è estrinseca rispetto al contenuto concettuale che si vuole comunicare quando con con Fabri pubblicammo qualcosa su questo argomento ho curato anche un paio di libri tantissimi anni fa con alcuni colleghi abbiamo ricevuto da parte dei filosofi critiche spietate con recensioni molto dure sull'idea tipica di ma questi qui cosa centrano con la filosofia questo discorso cosa ha a che vedere con noi eppure stavo dicendo la decisione circa il modello discorsivo da assumere non è estrinseca rispetto al contenuto concettuale che si vuole comunicare la scrittura filosofica lo hanno mostrato personaggi come Derrida o Richard Rorty non è la semplice rappresentazione di un pensiero puro che esiste di per sé ma contribuisce a produrre l'universo di senso complessivo entro cui si dispiega appunto la speculazione filosofica appare chiaro insomma come ogni filosofia struttura i propri contenuti dottrinari a partire quantomeno da una doppia serie di costrizioni formali da un lato come ovvio quelle fenomenologicamente più esplicite del testo ovvero della singola opera di filosofia che fa uso di un certo stile di una certa scrittura da un altro lato meno evidentemente quelle proprie al genere entro cui quell'opera si colloca così come è solo grazie all'etichetta di genere che un lettore decide quale atteggiamento assumere rispetto a una certa opera letteraria riderà se commedia si appassionerà se romanzo e così via allo stesso modo è grazie a una cornice enunciativa tipicamente filosofica che è possibile leggere coniamo il Candide di Voltaire come una critica a Leibniz piuttosto che come un ennesimo romanzo settecentesco colmo di disavventure accade così che il dialogo tra filosofi nella sincronia come nella diacronia non verta soltanto sulla dottrina da essi proposta ma anche sui generi attraverso cui essi decidono di comunicare quella dottrina di conseguenza più che continuare a ricordare che la filosofia e la poesia si ribaltano nella modernità l'una nell'altra negando le rispettive costrizioni discorsive cosa senza dubbio corretta appare più opportuno per noi spiegare quali sono queste stesse costrizioni e se infatti prima di poter essere negate in qualche modo devono essere state precedentemente poste per fare questo vorrei qui limitare il campo di indagine a un particolare tipo discorsivo con cui la filosofia si è spesso esercitata quello dell'autobiografia a differenza di altri sottogeneri filosofici caratteristici della sola filosofia che in realtà sono ben pochi l'autobiografia è un sottogenere praticato lo sappiamo anche grazie a questo seminario praticato in tutti altri settori del sapere in tutti altri generi di discorso letteratura scienza spettacolo politica religione sport e così via per questa ragione si tende a considerarla come un tipo di discorso se non del tutto esterno quantomeno impuro rispetto ai testi filosofici propriamente detti una sorta di opera esoterica destinata ai non addetti ai lavori l'autobiografia filosofica è stata dunque per lo più interpretata come una specie di diletto narcisistico del filosofo o di una escusazione non petita della sua esistenza mondana l'autobiografia filosofica non avrebbe dunque in sé in quanto genere letterario o sottogenere filosofico alcun valore dottrinario se non per quei pochi casi in cui la soggettività del filosofo viene da lui stesso esplicitamente tematizzata così se i diari di Kierkegaard postumi possono essere considerati a tutti gli effetti un testo filosofico e in qualche modo lo sono anche l'autobiografia di Maimon 1793 o di Collingwood 1939 non altrettanto si può dire per l'autobiografia di Mill 1873 o di Bertrand Russell 1956 e se è difficile dubitare del valore intimamente filosofico delle confessioni di Agostino qualche problema possono già suscitare quelle di Rousseau e se è possibile inquadrare l'ecceomo di Nietzsche all'interno della sua metafisica della volontà opere occasionali sembrano essere la vita di Giambattista Vico scritta dal resto su commissione il contributo alla critica di me stesso di Benedetto Croce l'un conservato per lunghi anni nel cassetto e la mia vita in Germania prima e dopo il 1933 di Karl Leowit dedicato più che altro alla questione ebraica ancora se appare chiaro il nesso che le mots di Sartre o l'autobiografia filosofica di Aspers hanno per la riflessione esistenzialista di questi autori non altrettanto contestualizzabili dal punto di vista speculativo appaiono testi relativamente recenti come L'Avenir Dur Longtemps di Louis Althusser o Ammazzando il tempo di Paul Feier Abbent o Reflexion Fet di Paul Ricer tutti dagli anni 90 ma si tratta di distinzioni normative in fin dei conti normalizzanti non solo infatti questa serie di inclusioni e di esclusioni viene condotta a partire da una griglia a prioristica di discipline e di relativi regimi testuali ma soprattutto esse non tiene in adeguata considerazione la funzione prima ricordata del genere e il conseguente dialogo a distanza che i vari generi intrattengono tra di loro se si è scelto di studiare l'autobiografia filosofica è proprio perché in essa la scena enunciativa è quasi sempre esplicitata quindi per certi versi diremo è più semplice di modo che l'io che pensa viene a coincidere con l'io che scrive e quest'ultimo in termini casi anche con l'io che vive ragioni affetti e azioni si intrecciano sullo sfondo di un vissuto che seppure spesso viene denegato nel senso psicoanalitico ovviamente proprio per questo assume un ruolo di primo piano nell'universo di senso approntato dalla speculazione filosofica con l'autobiografia filosofica ogni tentativo di dissimulare il carattere discorsivo della filosofia viene a cadere l'argomentazione concettuale finisce con l'intrecciarsi oltre che con la scena della scrittura con la narrazione della vita del filosofo così piuttosto che espungerla senza appello dal campo della filosofia sarà bene interrogarsi uno sul ruolo che essa occupa nel corpus complessivo delle opere di un determinato filosofo due sul dialogo a distanza che essa intrattiene con altre autobiografie filosofiche e tre sul modo in cui essa è costruita al suo interno sia a livello del racconto enunciato sia a livello delle procedure di enunciazione sia soprattutto a livello della relazione tra enunciato e denunciazione per qualche riguardo il primo punto non c'è dubbio che esista una specie di interstessualità interna tra le opere di un filosofo e che l'autobiografia filosofica giochi qui una funzione basilare volendo escludere per il momento autori come Kierkegaard o Sartre dove come si è detto il tema della soggettività condiziona la scelta della scrittura autobiografica e volendo inoltre mettere tra parentesi il nesso Erlebnis autobiografia indicato da autori come Diltai o Gadamer è in dubbio che l'autobiografia filosofica opera un sostanziale riposizionamento del soggetto enunciante se non una sua radicale messa in mostra allo scopo di costruire una identità comunicativa complessiva del filosofo laddove in generale possiamo supporre che il discorso filosofico tenda a cancellare ogni traccia del soggetto enunciante per lasciarsi sparire l'oggettività dunque la veridicità del suo enunciato ripeto pensate ad Hegel il quale sosteneva che il pensiero si fa da sé ovviamente non c'è nessun autore nel nella nella come dire di spiegarsi dello spirito l'autobiografia filosofica compie l'operazione opposta esibisce l'enunciante all'interno del suo stesso enunciato nel racconto del passato sia esso vissuto come ricerca o esibito come destino per produrre in un solo movimento sia l'identità del soggetto protagonista sia il valore dell'oggetto messo in gioco in altre parole il racconto autobiografico del filosofo è la narrazione del percorso vero o fittizio che sia che il filosofo ha dovuto compiere per costituire la sua identità dunque del programma d'azione che ha dovuto seguire per congiungersi con quel particolare oggetto che è per lui il sapere filosofico delle prove che ha dovuto sostenere e dei riconoscimenti che ha ottenuto grazie a questo da qui la frequenza delle autobiografie filosofiche nella storia della filosofia le quali del resto appaiono soprattutto nei momenti di maggiore tensione epistemologica e da qui l'insistenza con cui spesso all'inizio dell'opera il filosofo narratore di sé vuole giustificare la propria operazione sottolineando la straordinarietà di quanto si accinge a dire egli pone implicitamente come normale dunque naturale e veritiero quanto ha detto nelle altre sue opere nel caso dell'autobiografia filosofica il soggetto enunciante sente sempre il bisogno di definire il proprio enunciato di giustificarne l'esistenza lasciando presupporre implicitamente un enunciatario più o meno degno di richiedere spiegazioni agostino ma che cosa ho da spartire con gli uomini per cui dovrebbero ascoltare le mie confessioni la guarigione di tutte le mie debolezze non verrà certo da questa gente curiosa di conoscere la vita altrui ma infingarda nel correggere la propria perché chiedono di udire da me chi sono io ed evitano di udire da te chi sono essi come poi sapranno udendo me stesso parlare di me stesso se dico il vero quando nessun tra gli uomini conosce quanto avviene in un uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui citazione dai corinti croce tutt'altro epoca tutt'altro periodo perché io che ho composto tanti saggi critico storici intorno a scrittori così contemporanei come remoti procurando di intendere di ciascuno il carattere e lo svolgimento e discernere quel che ciascuno aveva di proprio d'originale non comporrò un saggio su me stesso se altro altre citazioni ne leggo una molto lunghissima dico un pezzettino da Ricœur che ricordo il cui titolo è Reflexion Fett il titolo scelto per questo saggio di autocomprensione sottolinea i due tipi di limite imposti a questa impresa in primo luogo l'oggettivo intellettuale avverte che l'aggettivo l'accento principale sarà posto sullo sviluppo del mio lavoro filosofico e che della mia vita privata saranno evocati solo quegli elementi utili a chiarirlo in secondo luogo parlando di autobiografia mi assumo il rischio delle trappole dei difetti legati al genere eccetera eccetera salto salto da Paul Feyerabend salto da Louis Althusser se ci sarà un testo una pubblicazione ovviamente queste citazioni saranno presenti dunque se c'è chi come Croce o Ricard dichiara immediatamente che esporrà soltanto eventi legati al proprio sviluppo intellettuale qualcun altro come Althusser o Feyerabend Feyerabend tra l'altro mette nella sua autobiografia una serie di fotografie ce n'è una che credo sia addirittura sulla quarta in cui lui lava i piatti e sotto c'è una di Tascalia che dice filosofo al lavoro ripete più volte appunto gente come Althusser o Feyerabend ripetono più volte come l'operazione autobiografica sia legata a un fatto a un momento molto preciso ricordate la famosa episodio di Althusser che sta per strangolare la moglie a partire dai quali l'intera loro esistenza acquista un nuovo significato e si potrebbero citare innumereboli altri esempi tutti insistono dunque su questo carattere eccezionale del testo filosofico dell'autobiografia filosofica che è l'eccezionalità di questo testo rispetto ad altri testi del medesimo filosofo ma l'identità di un soggetto non si costituisce soltanto nel percorso che egli segue e nelle prove che sostiene all'interno di un certo racconto per congiungersi con i suoi oggetti del desiderio è necessario inoltre che questo soggetto entri in relazione con altri siano essi soggetti in presenzia incontrati in quel certo racconto soggetti in absenzia circolanti in altri possibili racconti l'identità insomma come ha ricordato il già citato Ricker è l'effetto sia di una perseveranza esistenziale sia l'esito di un contrasto con l'altro si costituisce cioè sia nei processi sintagmatici di trasformazione sia nelle relazioni paradigmatiche con l'alterità così per quel che riguarda l'autobiografia filosofica appare evidente che oltre alla strategia identitaria attuata nell'intertestualità interna alle opere di un singolo filosofo si è presente anche una strategia identitaria che agisce grazie ad una intertestualità esterna non c'è praticamente autobiografia filosofica da Agostino a Croce da Montaigne a Russell in cui l'enunciante oltre che come si diceva prima giustificare quell'opera rispetto alle sue altre non situi il proprio discorso all'interno di un genere spesso chiarendo che la sua non sarà un'autobiografia come tutte le altre oppure non sarà una vera e propria autobiografia cioè tutte le autobiografie filosoficiche dicono di non essere tali in ogni caso si devono posizionare rispetto alle altre al genere autobiografico Rousseau come tutti sappiamo si confessa pensando ai lettori del suo tempo ma anche pensando a Agostino e a Rousseau si richiama per esempio al Tusser che cito ahimè non sono Rousseau ma nel concepire questo progetto di scrivere su di me e sul dramma che ho vissuto e ancora vivo ho pensato spesso la sua audacia inaudita non che io pretende di dire con lui come all'inizio delle confessioni mi accinga un'impresa senza precedenti no ritengo però di poter dire onestamente e sottoscrivere la sua dichiarazione al Tusser che cita il russo dirò francamente ecco ciò che ho fatto ciò che ho pensato ciò che sono stato e aggiungerò soltanto ciò che ho capito creduto di capire ciò di cui non sono più completamente padrone ma ciò che sono diventato era stato in galera alcune volte del resto le dispute filosofiche sono prese in carico proprio dal genere di discorso adottato di tipo autobiografico così Descartes nella prima parte del suo discours della méthode precisa il mio proponimento non è di insegnare qui il metodo che ciascuno deve seguire per indirizzare bene la sua ragione ma soltanto dimostrare in che modo ho cercato di indirizzare la mia quelli che si atteggiano a maestri debbono stimarsi più abili di quelli a cui impartiscono i loro precetti e se vengono meno alla minima cosa sono degni di biasimo ma poiché io non presento questo scritto che è come una storia o se vi pare come una favola in cui in mezzo ad altalunni esempi che possono essere imitati se ne trovano forse molti altri che si avrà ragione di non seguire spero che esso sarà utile ad alcuni senza essere nocivo a nessuno e che tutti mi ringrazieranno della mia franchezza Gian Battista Vico nelle prime pagine della sua vita dichiara non fingerassi qui ciò che astutamente finse Renato delle Carte d'intorno al metodo dei suoi studi per porre solamente sulla filosofia e matematica e atterrare tutti gli altri studi che compiono la divina e umana erudizione ma con ingenuità dovuta da storico si narrerà fil filo e con ischiettezza la serie degli studi del Vico lui parla di sé in terza persona perché si conoscano le proprie e naturali cagioni della sua tale e non altra riuscita di letterato Croce c'è questa triade molto chiara Vico Descartes Croce o per meglio dire Descartes Vico Croce che cosa scriverò dunque se non scriverò né confessioni né ricordi né memorie mi proverò semplicemente ad abbozzare la critica e perciò la storia di me stesso ossia del lavoro che come ogni altro individuo ha contribuito al lavoro comune la storia della mia virgolette vocazione o virgolette missione delle quali parole ho già temperato quel che possono avere di altisonante col notare che ogni uomo conferisce al lavoro comune ogni uomo la propria vocazione o missione e può farne la storia quantunque certamente se avessi atteso solo alle mie faccende private o al governo della mia famiglia o peggio da adempiere la poco degna missione del gaudente non starei ora a prendere la penna per raccontarmi così Vico accetta di raccontarsi non solo per autenticare a posteriori la scienza nuova ma soprattutto per contrapporre l'andamento del proprio racconto a quello del suo avversario teorico più agguerrito René Descartes quello che lui chiamava Renato delle carte e Croce emulando il suo ideale maestro cioè Vico inserisce il contributo nella scia del discours della méthode si istituisce insomma silenziosamente ma efficacemente un dialogo tra le opere che sono state prodotte all'interno dello stesso genere il cui contenuto semantico non è più immediatamente nel caso dell'autobiografia filosofica la vita del filosofo ma il modello discorsivo a partire dal quale il filosofo stesso decide di raccontarla modello che viene esplicitamente opposto a quello di altri filosofi che hanno raccontato la loro vita al di là del pacchetto di informazioni che il singolo testo contiene vi è dunque un surplus di senso prodotto dalla relazione ideale che l'autobiografia filosofica assume con altri testi presenti non tanto nella storia di la filosofia quanto piuttosto nella storia della scrittura filosofica andando al terzo punto del programma col quale concludo quello riguardante la struttura interna dell'autobiografia filosofica è evidente che l'analisi deve procedere con maggiori precauzioni soprattutto prima di poter promuovere ipotesi onnicomprensive deve considerare minuziosamente testo per testo in maniera tale da costruire come è giusto che sia varianti e invarianti a suo tempo con Paolo Fabri avevamo fatto una lunga analisi del contributo alla critica di me stesso di Benedetto Croce a cui rimando e qui invece mi soffermerò sul discur di Cartesio di Renato delle Carte per mostrare come quest'opera basilare della storia della filosofia si fondì per gran parte giusto sulla scelta del registro autobiografico registo che tra l'altro sembra perfettamente adattarsi a quello che è il risultato speculativo più evidente dell'opera e che ne diventerà anche non facendone parte universalmente il motto cioè avrete tutti capito cogito ergo sumo è ormai assodato che Descartes fa della sua opera il contrario di quello che pure dichiara nel momento stesso in cui teorizza la supremazia del procedere logico dimostrativo su quello del verosimile argomentativo fa largo uso di strumenti retorici figure tropi immagini ricorrenti antimemi e soprattutto racconti laddove il racconto per eccellenza occorre sottolineare è proprio quello autobiografico presente nel discorso sul metodo molti studiosi hanno già messo in evidenza le molteplici strategie testuali presenti nell'opera cartesiana lavorando ora sulla lingua sull'argomentazione sulla retorica sulla discorsività implicita e sui suoi esiti culturali è stato detto per esempio che il discorso sul metodo pur essendo un discorso primo come sono scusatemi pur non essendo un discorso primo come sono per esempio le meditazioni acquisisce il ruolo di un discorso costituente il termine di Mangano di un discorso costituente strutturato cioè per divenire il luogo proprio dove si costituisce quella dottrina cartesiana che invaderà la scena filosofica e intellettuale dei secoli successivi seppure al momento della sua fondazione il discorso sul metodo viene posto lo sappiamo come introduzione ad alcune opere di scienza il discorso era l'introduzione a le meteore la diottrica e la geometria Descartes pensava a un volumone composto di queste quattro opere di cui il discorso era la prima parte quindi il discorso non possiede dal primo momento uno statuto di testo autonomo però è indubbio che possieda un ruolo fondatore nella storia del pensiero proprio grazie alle strategie discorsive retoriche e testuali che mette in atto si tratta infatti di un testo che si è via via reso autonomo rispetto alla fisica e anche rispetto alla filosofia finendo per diventare una specie di detto sempre da Mangano monumento stilistico apprezzato e imitato da scrittori e scriventi d'ogni tipo proprio perché scrive Mangano una filosofia e non si riduce a una dottrina la cadenza che il discorso dà all'esposizione della verità con la V maiuscola gli schemi che esso fa passare sono stati uno dei motori essenziali dello sviluppo del cartesianesimo nel mondo intellettuale fine della citazione quel che mi sembra sia stato trascurato è però il nesso che lega questo monumento stilistico al genere discorsivo che pure adotta ovvero la relazione che tiene insieme l'assunzione del registro autobiografico con l'argomentazione discorsiva e con l'architettonica concettuale che ad altri livelli esso presenta piuttosto che spostare i problemi dell'autobiografia sul versante della storicità o meno dei fatti raccontati problema del tutto poco importante e mantenere l'analisi di discorso filosofico sul solo versante dell'argomentazione sembra opportuno saldare i due livelli e mostrare che è proprio grazie alla scelta dell'enunciazione autobiografica che è possibile condurre una certa argomentazione un'argomentazione che pone le sue basi all'interno di una struttura narrativa che dietro all'apparenza di una semplice scelta stilistica si rivela in realtà assolutamente funzionale alla costruzione dell'universo semantico dell'intera opera quello che sto cercando di dire è che questo libro ha ovviamente una straordinaria quantità di testi che lo interpretano come giusto che sia per un classico del genere c'è anche un libro di Jean-François Bordron ma non si occupa del discorso si occupa delle meditazioni però tutti ne parlano quasi tutti almeno in termini di problemi argomentativi e logica del discorso quello che sto cercando di dire è che c'è a un livello più profondo che per noi è abbastanza evidente ma da ricostruire è quello narrativo se si considerano per esempio i grandi problemi di fondo presenti nel testo il metodo la scienza il dubbio l'esistenza di Dio eccetera si vede come essi siano sempre riconducibili ad assiologie molto precise siano cioè costruiti all'interno di coppie oppositive dove uno dei termini viene valorizzato positivamente e l'altro negativamente la più evidente opposizione semantica presente nel testo per esempio è senza dubbio quella che mette in contrasto la scienza con la storia questa grande opposizione si espande e si articola in una serie più complessa di relazioni dal lato della storia stanno l'autorità scolastica e l'imitazione dei celebri modelli del passato dopo è scontato il contenuto dell'opera questo mi sembra abbastanza ovvio dal lato della scienza stanno il dubbio e il metodo quindi ripeto storia autorità scolastica imitazione da un lato scienza dubbio metodo dall'altro ancora laddove il metodo viene presentato come termine contrario all'autorità scolastica il dubbio è a sua volta il termine contrario dell'imitazione dei modelli narrativi e se autorità scolastica e dubbio scettico sono a loro volta in relazione di contraddizione lo stesso si può dire per l'imitazione il metodo e il cogito in questo quadro si pone come un movimento affermativo dal dubbio al metodo ne risulterebbe uno schema di questo tipo sto parlando per i pochi che sono rimasti che amano il quadrato semiotico ci sarebbe non ve lo do proprio per non essere fastidioso però c'è un quadrato molto chiaro che spande articolo alla categoria semantica che oppone la scienza alla storia dove c'è appunto da un lato la scolastica e dall'altro il metodo come termini contrari come subcontrari c'è l'imitazione dei modelli e il dubbio scettico e il movimento del cogito sarebbe questo movimento questa operazione di affermazione che si manifesta all'interno del quadrato e che va dal termine negativo del dubbio al momento positivo del metodo quindi dalla non autorità alla evidenza ma possiamo anche fare meno del quadrato in ogni caso restano queste forme di opposizione all'interno del testo e soprattutto questo movimento di trasformazione di affermazione dal dubbio al metodo dalla non autorità all'evidenza se si riversa dunque l'universo concettuale del discorso sul metodo nel suo soggiacente universo semantico diviene possibile fare giocare tra loro i concetti filosofici come se si trattasse di valori discorsivi opposti valori che a un altro livello finiscono per diventare veri e propri personaggi di un racconto Descartes infatti non si limita a opporre la positività della scienza del dubbio e del metodo alla negatività della storia dell'autorità e della imitazione preferisce invece mostrare come la scienza sia una conquista personale ovvero l'esito di un percorso narrativo canonico le cui strutture formali risultano essere analoghe a quelle di modi narrativi apparentemente molto lontani come la fiabba e il mito parlare del discorso sul metodo come un mito farà saltare in aria molti filosofi ma da un punto di vista semiotico formale non è poi così strano in altri termini se apparentemente molto scusate in altri termini se il discorso sul metodo è un racconto non è solo perché innesta alcune riflessioni filosofiche fondamentali sullo sfondo di certi peraltro sporadici eventi della vita del suo soggetto enunciante ma è invece perché organizza la sua argomentazione all'interno di una struttura narrativa assai semplice eppure fondamentale classica c'è un soggetto che da una situazione di equilibrio passa ad una mancanza proprio propiana e deve adoperarsi per colmare quella lacuna non tanto per tornare alla situazione iniziale quanto per acquisire quella competenza che gli consente di compiere gesti assolutamente nuovi e di acquisire con c'è una più marcata identità personale trasformazione se tutto questo accade è per via di un antisoggetto che è responsabile della mancanza iniziale che contrasterà per tutto il corso del racconto del soggetto contro l'eroe cartesio si schiera infatti una forza minacciosa che viene figurativizzata ora nei filosofi artefici della verosimiglianza ora nella chiesa custode della verità il soggetto eroe si distacca dagli uni all'inizio della storia rivelando alla fine che è stata soprattutto l'altra cioè la chiesa a spaventarla e che è stata cioè la condanna di Galileo a metterlo sull'avviso che ho perduto tutto il tempo l'ho preso tutto c'ho ancora dieci minuti ce la posso fare? sì sì certo grazie ti vedevo l'immagine bloccata allora quindi rivelando che è stato soprattutto spaventarlo la condanna di Galileo a metterlo sull'avviso a distruggere quella tranquillità che gli aveva trovato nell'esercizio quotidiano dell'osservazione naturalistica e del metodo matematico come nella maggior parte delle storie il racconto del discorso sul metodo non pone l'accento sulla trasformazione finale quanto sui mezzi che sono stati necessari per arrivare ad essa cioè sulle modalità che il soggetto ha dovuto fare proprie per compiere le sue prove decisive il cogito da questo punto di vista acquisisce nel racconto il ruolo centrale di un valore d'uso che rende possibile il passaggio dal dubbio scettico all'evidenza di sé e del mondo grazie all'acquisizione di un saper fare è possibile compiere il passo decisivo verso l'assunzione non solo di un potere fare scrivere di scienza ma anche di un potere essere mostrare agli altri se stesso come modello così il discorso sul metodo si rivela essere più simile a un mito che a una fiabba e il risultato raggiunto ridiventa uno strumento per il soggetto avvenire che vorrà compiere il medesimo tragitto se la scienza è un cammino individuale se l'intuizione del cogito è possibile solo all'interno di una confortevole poelle sapete che lui amava vivere dentro ambienti molto caldi e morì quando si trasferì in Svezia è però vero che il cammino percorso può fungere da per modello esemplare per chi vorrà avventurarsi in questo tragitto solitario è così che ancora una volta Descartes sembra negare nei fatti quanto invece afferma in teoria le storie dichiara a un certo punto o fanno immaginare cose che non sono tali o se fedeli omettono sempre qualcosa di ciò che vogliono raccontare imitarle vuol dire pertanto cadere nell'errore è la vecchia idea della storia nel senso di finzione ovviamente quella di tanti attuali filosofi del linguaggio eppure il discorso sul metodo dice lo stesso autore poche pagine prima non è altro che una storia anzi l'abbiamo sentito poco fa una favola che tiene a precisare nella sua franchezza valore di modello per chi voglia percorrere esperienze analoghe per chi voglia in sostanza acquisire un metodo corretto per la scelta della propria ragione da questo punto di vista è stato notato il genere autobiografico sembra essere ben poco importante cito da Roudot se Descartes ricorre al racconto personale non è per desiderio di verità ma scopi dimostrativi il partito autobiografico ha lo scopo di mandare in rovina l'autobiografia l'esperienza in effetti non genera la verità solo il principio può dare senso a ciò che è senza un effettivo riconoscimento resta una vana manifestazione ma c'è un altro elemento fondamentale di ogni racconto che occorre considerare e che fa nuovamente pendere l'ago della bilancia per la scelta autobiografica nessuna storia è infatti possibile senza un iniziale contratto come sappiamo tutti tra il soggetto che deve compiere le sue gesta e un'altra figura che iscrive nella vita del soggetto quel suo destino questa figura è dunque lo sappiamo tutti un destinante che può anche non apparire in carne e ossa nel racconto ma che silenziosamente ne regge l'intera economia semantica e alla fine sanziona l'operato del soggetto eroa ci sono storie in cui un re invia l'eroe a recuperare la principessa ed altre in cui M spedisce Bond contro Goldfinger ma ce ne sono alcune in cui è Dio a mandare San Giorgio a sconfiggere il drago ed altre ancora in cui è lo stesso soggetto perché no a fungere da destinante di se stesso nel romanzo moderno per esempio opera questa sostanziale secolarizzazione del destinante che continua a operare come figura d'autorità pur coincidendo con la figura dell'eroe o dell'antieroe stesso la morte di Dio secondo Nietzsche del resto non implica la scomparsa del ruolo di Dio stesso ma soltanto un suo surrettizio spostamento all'interno della coscienza umana ed è qui che si coglie il gesto costituente come abbiamo detto prima del discorso sul metodo rispetto alla cultura successiva se questo testo inaugura l'epoca razionalista moderna è proprio perché mette in scena un racconto ricerca dei fondamenti della conoscenza privo di un destinante divino prevede l'esercizio di una ragione che non ha Dio come suo fondamento ma il soggetto stesso che la possiede e se un'intera parte del discorso del metodo è dedicato alle prove dell'esistenza di Dio è proprio perché secondo Descartes per garantire buona pace alla scienza bisogna prima riposizionare il ruolo di Dio nei confronti della ragione umana e dal pensiero che fuoriesce la necessità di Dio e non il suo contrario fisica e metafisica si separano la prima è esercizio del metodo per ben indirizzare la propria ragione la seconda è speculazione sulla necessità della divinità se è possibile fare della fisica senza pensare a Dio è perché Dio ha tutt'altro ruolo narrativo nell'enciclopedia del sapere umano tutto questo è possibile sarà già chiaro solo all'interno di un'esperienza di vita che diviene modello di se stessa il soggetto eroe mostra una conquista narrativa che prima ancora di configurarsi come normale superamento di prove si caratterizza nell'eccezionale stipula di un contratto con se stesso ovvero come emancipazione nei confronti di qualunque autorità esterna la scommessa cartesiana non sta dunque nell'assunzione del metodo ma nel fatto di poterlo esercitare senza la sorveglianza di entità ulteriori siano esse l'autorità scolastica o il controllo della chiesa citazione appena ebbi compiuto tutto il corso degli studi al termine del quale si è generalmente elevati al rango di dotti mutai completamente opinione perché mi trovai intricato in tanti dubbi ed errori che mi sembrava di non avere tratto profilo ditto dai miei studi se non questo da avere scoperto di più in più la mia ignoranza il rilevamento della mancanza non avviene appunto grazie all'intervento di una figura esterna ma si giustifica solo all'interno della soggettività esistenziale del protagonista nessun destinante passa al soggetto ai valori della storia è lui stesso che compie il gesto nasconto per questo autoritario che li pone in essere l'arbitrarietà della scelta non è delegata a nessun agente esterno ma internamente affidata alla soggettività una soggettività però che non può essere soltanto quella enunciata ma anche quella enunciante è l'io che vive a cambiare opinione circa i risultati ottenuti nel famoso collegio di La Flash a non sentirsi per nulla adotto dopo aver terminato il corso di studi l'io che scrive non fa che riportare tra virgolette con franchezza ciò che è accaduto salvo poi nel seguito della storia aderire al suo personaggio quanto questo ha già stipulato con se stesso il contratto narrativo questa successiva adesione tra soggetto dell'enunciazione e soggetto dell'enunciato se volete tra il narratore e il personaggio garantisce una conclusione felice a tutta la vicenda conclusione che se deve prevedere come d'obbligo la sanzione di un destinante giudicatore occorre che nemmeno in questa occasione si ripresentino minacciose figure esterne che potrebbero non approvare l'operato dell'eroe chi è infatti che viene chiamato a sanzionare la storia narrata evidente già dall'inizio del libro quello stesso che per statuto deve sanzionare è una narrazione medesima ossia quell'enunciatario implicito della favola che Descartes dipinge più volte come il suo lettore ideale citazione sarò lieto di mostrare in questo discorso quali sono le vie che ho seguito e di ritrarre come in un quadro la mia vita affinché ciascuno possa formarsi in un giudizio e io stesso apprendendo le opinioni altrui alla voce comune posso aggiungere un nuovo mezzo a distruirmi di quelli di cui sono solito servirmi Descartes parla a coloro ai quali per natura possiedono già una ragione e deve soltanto acquisire un metodo per ben indirizzarla si tratta sappiamo di tutti gli uomini ovvero gli uomini comuni quelli che a differenza dei filosofi di mestiere che si ammacchia e ammanza nei loro discorsi di orpelli precostituiti hanno la semplice capacità di seguire e di comprendere il valore morale delle storie se dunque il discorso sul metodo è una favola è perché si rivolge a loro e saranno loro a giudicare insieme al testo del discorso sul metodo alla storia che al suo interno viene raccontata a sanzionare in un solo colpo l'io che scrive e l'io che vive senza probabilmente mettere in discussione la scelta iniziale di quest'ultimo l'intersoggettività prende insomma il posto dell'autorità veredittiva e il soggetto eroe si trova uomo tra gli uomini modello per gli altri ma soprattutto attento ascoltatore della voce comune sto finello il discorso autobiografico dell'io il non immediato congiungimento dell'io che scrive con l'io che vive e la comune finale esperienza della sanzione divengono così l'escamotage discorsivo per questa surrettizia messa in mora della divinità sappiamo che il discorso sul metodo della prima opera che Descartes decide di pubblicare ci dice lui stesso di non aver voluto dare alle stampe il suo trattato sul mondo lui aveva scritto un libro che si chiamava Il mondo per timore di incorrere nelle ire della chiesa e sappiamo che il discorso sul metodo funge da introduzione ad alcune specifiche opere di scienza quelle che citavo prima la diottrica la meteora eccetera capiamo adesso la ragione di questa introduzione la ragione per cui questa introduzione viene iscritta nel genere autobiografico perché cioè è soltanto il registro narrativo personale a rendere possibile un'argomentazione altrimenti indicibile a far passare una scelta filosofica che nessuna dimostrazione razionale e nessuna argomentazione dialettica avrebbe potuto garantire come il mito per Platone se è lecito il paragone Descartes ricorre al suo mito personale giusto in quella nicchia concettuale in cui nessun discorso filosofico tra virgolette puro sarebbe stato praticabile vi ringrazio per l'ascolto e la pazienza e mi scuso di essere stato molto più lungo del previsto Grazie a tutti